Ciao da Vaccari EletroCasa, vediamo cosa è arrivato oggi, una novità Idealux, è un oggetto molto interessante, fra l'altro sono molto di moda, sono le lampade decorative a led che vengono usate molto negli arredamenti sia moderni che classici e vediamo questa bellezza di lampada. Apriamo, eccola qua, questa è una lampadina, questa è una lampadina decorativa a led, la prendiamo fuori dall'imballo, eccola qui, guardate che bellezza, è un vetro soffiato a mano, ora la mettiamo ad esempio in questi portalampade pendenti che sono molto di moda, ecco vedete, questa ad esempio sarebbe la sua, sarebbe la sua sistemazione ottimale con di quarta lampada classici, filo in stoffa, pendenti che si possono mettere anche in gruppi di 2 e 3, ora lo accendiamo, eccola qua, questa è una lampada come vi dico a led, è un 12 watt di consumo, il colore ambrato che dà un'atmosfera molto molto soft, ecco e queste sono molto belle, arredano come un lampadario, fatti già da sole sono, arredano e sono molto belle anche in gruppo, non abbiamo solo questa forma, abbiamo tante altre forme che vi invito a venirle a vedere, ecco questa lampada led è alta 40 centimetri, è lunga 40 centimetri e ha un diametro di 20-22 circa, che meraviglia, venitela a vedere da Vaccarilettro Casa,